Danno all'erario e violazione dei diritti umani la pazza storia delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che per legge oggi vanno a sostituire il vecchio ospedale psichiatrico. A denunciare oggi gli esponenti di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi che hanno presentato un esposto alla procura regionale per l'Abruzzo presso la Corte dei Conti. La vicenda parte da Ripateatina dove doveva essere costruita una REMS da 4 milioni di euro mentre temporaneamente la residenza penale doveva essere istituita a Guardia Grele ma il progetto viene bloccato dal TAR, poi arriva dall'Aquila la proposta di Lucoli, costo 800 mila euro, soluzione già pronta. Ma intanto il subcommissario Zuccatelli aveva dato il nulla osta, 31 marzo 2015, ad una struttura a Rosello. La ASL di L'Aquila ottiene comunque il sì a reperire una struttura, Lucoli scompare e si arriva a Barete. Non è pronta, non ha i requisiti, deve essere ristrutturata e in più verrà a costare circa 150 mila euro di locazione. Quando ce n'era una già pronta, Rosello, che non aveva costi di questo tipo. Scompare la proposta che avrebbe portato ad un risparmio, ad un perlerario, di 3 milioni e 700 mila euro. Deve valutare la procura presso la Corte dei Conti se ricorrono anche, oltre al chiaro danno patrimoniale, i requisiti e i presupposti di legge per esercitare l'azione di responsabilità contro i responsabili. Questo chiaro sperpero di denaro pubblico.